Musica Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti e benvenuti su un nuovo episodio Siamo nell'adventure cut come sempre Abbiamo trovato un piccolo amico che navigava così per casa nostra Non è serenamente il nostro amico zombie ma come vedete è tipo Oh mio dio cos'è Uno zao tower Oh cristo quanto sei grande Mi faccio un po' di male però non voglio sapere quanto mi devono Quindi io Ok mi ha troppato un paio di robe Penso che farmi una protezione sarebbe un'ottima idea Come vedete le ceste sono finite Ho trovato tutto finalmente Quindi bam Finalmente qualcosa di utile ragazzi Si provolisse dopo un sacco di tempo Cioè ce l'ha fatta insomma Bianca questa è una cosa importante Ce l'ha fatta Finalmente ha levato tutte le ceste inutili Bam Ok ho smistato tutto Ho fatto un paio di cose Però per il momento mi serve anche aggiustare qua Ok quindi cosa facciamo Vedete tutto Andiamo un po' Eh io la metterei un po' più qui sul lato Perché sarebbe la cosa migliore da fare Quindi stancing table Part builder Lasciare lo spazio per l'altro coso Facciamo il tool station E poi la nostra bella crafting table Qui accanto metteremo una chest Perché è giusto che ci sia Ok Eh il letto Va messo qua adesso Fino a quando non faremo una stanza Vera e propria Però per il momento ci accontentiamo Ok Andiamo a posizionare l'ultima roba Che abbiamo recuperato dal mob A posto Quindi leather Blocchi random vanno qua Perfetto Ho fatto un piccolo update Anche della magica Che come vedete adesso Si trova nella chest Qua Bam Che figata Sopra c'è invece la nostra bellissima witchery Che ne abbiamo ancora visto tantissimo Sinceramente Quindi la vedremo magari in futuro Però è davvero carina Quindi ve la voglio far vedere Perché è davvero bella Come ho già detto Ok Abbiamo finito di Più o meno mettere un paio di chest Mi serve ancora un paio Però più o meno Abbiamo fatto un'ottima cosa Cioè Abbiamo comunque un buon punto Ok Allora oggi Voglio farvi vedere un attimo una cosa Ho fatto anche tipo In crantesmi qui Perfetto In cui ho messo tipo questa cosa Il saltarello Voglio prendere delle frecce Sicilamente E anche la pistola Perché potrebbe essere un futuro utile Quindi lo mettiamo per esempio In armi Ok E siamo a posto Farei anche il nostro bello bow Della tinker Però per il momento Mi ha contato di dormire Perché c'è gente strana fuori Quindi Meglio dormire Ok Allora Voglio un po' livellare Voglio andare almeno a livello 10 Se posso prendermi Un punto blu E Avere un sacco di cose migliori Sicilamente Quindi proverei ad attaccare Un paio di mob Se possibile Tipo questo qua Sarà un bel problema In effetti Merdo Ho già finito la cosa Come a te Sembra che il mana Si ricopri un po' più facilmente Oddio Perché prendo un danno Si difende lo stronzo Si è difeso Si è difeso lo stronzo Ah capito Ok Servirà davvero un sacco Di mana Di recupero mana Probabilmente Però sarà un bel problema Ah voglio farvi vedere Una cosa anche bella Il nostro Ricordate il nostro Aking comprennium Bene è cambiato Sanamente è cambiato Tipo è stato un po' più figo E adesso abbiamo anche L'Ethereum Che non so bene cosa sia Però Ci accontentiamo Perché è figo Io però Voglio vedere un attimo Il mana Se c'è un modo Mana cake Mana potion Bundle Io vorrei dire mana potion Perché sono un'ottima cosa E sono anche veloci Nei affetti da fare Oh Lì c'è il nostro piccolo amico Vedete che adesso Ricopro molto facilmente Il mana ragazzi Penso l'abbia Abbia capito Che serve davvero Migliorare sta cosa Ok l'ho preso Perfetto sarà un bel problema Ucciderlo questo Aia Ah bugia però Ah ok no Sembra essere diminuito La sua potenza In effetti Attaccarlo sempre Dandogli uno di danno Non è proprio il massimo Ok lì c'è anche cambiato Il nostro wood Il nostro witch wood Che è detto più figo Inizialmente oggi Voglio lavorare Ancora la parte In cui dicevo La forza scorsa Ovvero Alle parti più importanti Da casa perché voglio finirla Prima di andare avanti Perché Se no Non siamo davvero messi bene E Come vedete Entra la gente in casa Quindi voglio essere sicuro Che non Entra nessuno in casa E che sia comunque Al sicuro Quindi cosa facciamo Prima di tutto Prima di tutto Andiamo a prenderci Un po' di cobblestone Questa qua Perfetto E E facciamo il piccone Distruggendo questa parte Almeno facciamo il tetto Di questa parete Che poi è la parete Che più ci manca E sto pensando un po' Al sistema di illuminazione Come nella piximo Perché è quello Il più grande problema Che ho sempre Non so bene Come piazzare delle torce Oppure metterci Che ne so Delle Delle lampade Le lampade sono molto carine Devo dire Quindi boh Potrebbe essere un'ottima idea Fare quelle E un'altra cosa Volevo mettere un'altra mod Sicilmente l'ultima anche Penso perché Non voglio mettere Mettere tantissime E Kimi crea un piccolo Una piccola cosa Abbastanza carina Che è tipo L'ender chest Però un po' più avventurosa Mi fa anche Dei piccoli zanetti Però delle zanetti Molto più fighi Di quelli Della backpack normale E quindi voglio Trovarla In adventure Perché voglio magari portare Nullissi Però non penso Sia una cosa Che farò Però per il momento Voglio testarla Vedere un po' se va bene Se tipo è figa Boh non so Vedremo un po' Comunque per il momento Direi che Questa parte È conclusa Abbiamo messo un paio di torce Più o meno dovrebbe essere Abbastanza bene Cioè ho messo abbastanza bene Mettiamoci un po' di torce qua Ok E anzi Qui mancava una torce Che tipo non si vedeva una mazza Perfetto E Questa cesta è ancora smistata Perché essenzialmente Non so dove mettere questa roba Quindi forse Tipo arredamento Cosa del genere Oh no qua Sotto No sotto ancora cobblestone Perfetto Quindi un attimo capire Dove mettere quella roba Però più o meno Boh Più o meno Ok Più o meno L'ho dimenticato Lo zanetto qui dentro Dicevo più o meno Non so bene dove metterla Quindi Boh magari in futuro Lo decideremo Sì penso di sì Ok Allora mettiamo qua La nostra piccola cosa E Voglio vedere un attimo Se siamo livellati No non siamo livellati Siamo ancora livello 7 Però Dobbiamo andare giù E piantare i semini Questi semini Perfetto Mi serviranno quindi Un po' di secchi Dovrei averne alcuni qua In tools Mi sembra Solo uno Vabbè Possiamo averle Avere un po' di ferro Tranquillamente Ok Facciamoci Una piccola crafting qua Ok Sì ragazzi Qui migliorerò Tutta sta cosa qua Perché so che è brutto Da vedere Però presto lo faremo Tranquilli Possiamo andare giù Tanto giù abbiamo già dell'acqua Non è un grandissimo problema E dovremmo avere Più o meno Sì Un bel po' di acqua Ok Nice Dobbiamo un attimo Sistemare questa roba È vero Mi serve la dirt Mi serve Senza dirt Non penso di andare avanti Quindi Prendiamone 2-3 stack Non so quanti stack Ne ho sicuramente Perché non ho scoperto tantissimo Però Qualcosa dovrei averla Da qua Ok Wow Ci ne ho pochissima davvero Pensavo di averne molto di più Vabbè Presto ci contentiamo Penso Ok Non penso che la Cisel Funziona Cioè non posso tipo Fare tante cose sulla Cisel Quindi per adesso Ci accontentiamo Di utilizzare Non so cos'è ragazzi Non chieda etimo Perché tipo Ho appena stato All'elicare in the mod Quindi Non so bene che cavolo È quella roba che Mi ci ronzola per casa O comunque E riscopriremo molto presto Perché penso di andare In esplorazione A cercare tutti i mob Possi immaginabili E presto inizieremo La towncraft E sicuramente Anche La witchery Che comunque Sono due mod Più o meno Magiche Sì In buona parte Sono magiche E quindi Sarebbe una bella idea Anche iniziare la towncraft Che da un bel po' Che non mostro sul mio canale E potrei fare Avere un sacco di cose belle Tipo anche Prendere La nostra piccola bacchetta Che può essere utile Soprattutto A uccidere tanti mob Oltre ad avere comunque L'ars magica Che è un'ottima cosa Ok Va bene così Non so adesso dove l'acqua Dove la devo mettere Però penso farò Dei piccoli pozzetti Ogni tanto E Penso vada bene Ok Sì magari la smette Quello di tipo Fare Iaia Già Le cose deve fare Ok Penso che non mi basterà mai Probabilmente dovrò farmi Qualcos'altro da tinker Ok A posto Non ce la farò nemmeno Fare tipo La tuta Almeno Stta parte però Rompiamola Tanto in futuro Prenderemo un po' di dirt E la riempiremo Tranquillamente Quanti sono? 10 blocchi saranno? Sì saranno 10 blocchi Non è un grandissimo problema Spero comunque vi piacciono I vari episodi Della Venturecraft Molti me lo chiedono Quindi sto cercando di portarle Più che posso Come ho già detto E Quindi non preoccupatevi Se escono comunque Non con una cadenza Molto Standard Però cerco di portarli Il più presto Il più presto possibile Li porto sempre Quindi non preoccupatevi Di questa cosa Perché 4 Dove essere 4 blocchi Sì perfetto Ok Penso di doverne mettere Tipo Giusto qualcuno Qua Ok Tipo Praticamente qua Dove andare Ok Poi devo chiudere l'altra parete Qua non è un grandissimo problema E andiamo a prenderci Una piccola o Perché non ce l'abbiamo Qua dobbiamo ancora Aumentare sto coso Vediamo un po' Voglio trovare Quel tizio che faceva Baccano L'ho visto Sbaglio O era quel coso Che è volato appena adesso Ho le allucinazioni io Sì penso che ho Le allucinazioni io Non lo so Forse sopra la montagna Non so bene dov'è Oh Guardate Ragazzi guardate Un piccolo alberello Che si muove Sto coso è assurdo Ragazzi Ci trovo un po' di roba N'effetti Tipo Perché ti dà gli stick Tipo Stronzate Però E' tipo fighissimo Essere attaccati da un alberello Cioè Pensateci E' fighissimo Ok Dovrei avere una O Da qualche parte Sì infatti ce l'ho una O Questa stona Basta e avanza Ok Sto ancora pensando Come fare l'ingresso Ovviamente Quello è Stato il più grande problema Che mi sono posto Dall'inizio della serie Perché Non so Non so Non so pensare All'ingresso bello Allora Metterci un po' di torcia Ragazzi Perché tipo Abbiamo bisogno di Un po' di luce Oh mio dio Tanta Tanta roba Tanta roba Quelli che fanno Baccano Facciamo F7 Così controlliamo Magari la luce Ok Sembrano esserci problemi Di luce Ok Ottimo Perfetto Si forse si rompirà Tutta la nostra piccola O Però almeno Io ho fatto Tutta sta parte E' finita Perfetto Ok 1,2,3 3,1,2 Eh cavolo Quando l'ho fatta Ok Andiamo di qua Perfetto Sì prima o poi La riempiremo tutta Tranquilli Cioè mi servirà Prendere un bel po' Di erba in giro Cercare un po' di roba E vedremo Di trovare qualcosa Tranquilli Ok Perfetto Mi servirà ancora un po' Di torta Quasi quasi L'andrò a prendere adesso Tanto abbiamo Una nostra bella palla Super potente Mi serviranno 10 blocchi probabilmente Penso un po' di sì E una cosa Che devo vedere ragazzi Quanta Allora Allora In tutto facciamo questa Questa piccola Così O plant Vedete un attimo Da questa parte Quanti libri c'ho? 7 Quanta leather c'ho? 14 Cane da zucchero Mi sa che non ne avevo proprio Ecco Quello che andiamo a cercare Quindi Mi serviranno un po' di cane da zucchero Da piantare Probabilmente Sapete Penso un attimo E' 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 un attimo Perché così Potremmo farci La nostra zona Enchant Magari appena possibile Penso che sarà Probabilmente Qui dietro Lì dietro Boh No bugia Non lo so A qualche parte sarà Su questo non ci sono dubbi Il nostro piccolo Va molto bene Il nostro piccolo E' sempre fantastico Presto andiamo anche Nel nether Non ci voglio andare Adesso perché Ho bisogno di tutto Di Farmi Il riparatore d'armature Quindi mi servirà Un paio di oggettini Di ars magica Però Presto voglio andarci Perché potrei trovare Tante cose belle Ok un paio di cose Un paio di moonstone Ok E' Dirt Potete prendere questo Dicamente Ok penso basti Dicamente Ottimo Non sembra nemmeno scavata Poi tanto crescerà L'erba sopra Amichetto Oddio Quell'aquila la voglio prendere Dì un po' L'ho presa Oddio Mostra i cecchi E ciao Aquila Oh merda Oh merda Mi attacca Oddio Ok E' stata una pessima idea Attaccare quell'aquila Perché tipo Mi voleva shottare di brutto Vabbè Tagli Ok Andiamo a posizionare Gli ultimi pezzi di Di dirt Giusto qua Attimo Ricordavo si Questo blocco Quello che mi serviva Perfetto Ho recuperato un po' Di questa roba E l'ho piantata di nuovo Così almeno adesso abbiamo Un po' di blocchi Perfetto E diciamo Devo lavorare ancora Questa parte A questo punto direi Prima di finire l'episodio Almeno mettiamoci Questi red block Sì mi avete detto Troppo E' troppo arancione Sì però Arancione è figo Ragazzi Ho detto che Molte volte rispondo Tipo ai commenti Cioè ai commenti Più che altro Le fac Le altre cose Mi chiedete L'isola Quale è il colore preferito E' l'arancione Che non ho potuto capire Dal fatto che Uso sempre l'arancione Beh dettagli E' ok Questa limestone E questi sacchimetro qua Perfetto Questo e questo E' dove era L'ars magica Dove gli ho messo L'ars magica Ah qua C'era un tanto Di scritta Ars magica Vabbè Ok Allora mi servirà Prima di tutto Prendere una Quindi magari La trovo un'altra Non ce l'ho Non ce l'ho Perfetto Quindi facciamo questo modo Prendiamo due stick Ok E mi serve un pezzo di ferro Va Due pezzi di ferro Facciamoci una o in ferro Almeno più resistente Da quella normale Ok So che ci sono anche Dei boss Tipo ci sono anche Altre armi Tipo sword Mi sembra Sword Ehm No Queste sono towncraft Questa è l'ars magica Queste qua Non ci interessano L'ars magica Abbiamo soplenti Eh sta cosa Ammettista è molto buona Però trovarla difficile No aspetterà Shep Ehm Ok Tipo questa Ecco qua L'icanete's mob Devo fare il poison gland Ehm Ok Tipo è una cosa abbastanza Strana Ma difficile da prendere Oddio magma charge Adesso di questa Dovrò prenderli tutti Nel Nel nether Sì probabilmente Dì guarda quanta roba c'è Le scrivo l'icanete Vediamo quanta roba c'è L'icanete Oh Un bel po' di roba In effetti Poi Oh Poi di shep Oh Summoning staff Oh Figo Ender bone Ok questo lo faccio Ender bone e diamante Bone Ender E Diamante scusate E oro Perfetto Facciamolo subito Potrebbe essere qualcosa di fighissimo Da vedere sicuramente Sono certo Ok Così E così Perfetto Bam Dì un po' Non spona Eh Ah ok Mi sembra che si carica forse Sta caricando Ehm Non funziona Ehm Dice summon minions To do your bidding Consume Ah Forse tipo Qua per esempio Cioè clicchiamo su una chest Magari Boh Oh è inutile Ok Ehm Blood Ah What Ah forse devo usarlo tipo sui mob Probabilmente Tipo Sì una cosa del genere Molto probabilmente Oh vediamo questa cosa Oddio Sì sì ci vorrà un'eternità a fare queste cose Oh c'è anche dei pani Bella Bella roba Sì Cooked mana Forse tipo devo farlo sui mob Probabilmente Vediamo tipo su mob qualsiasi Che però sia vanilla Così non siamo sicuri che funziona Magari Eh però questo qua doveva funzionare forse Vieni qua piccolo amichetto Qua sono un topolino ragazzi È inutile Oh merda Quello cos'è What the fuck Cosa sei È un piccolino Ci sono questo tizio anche Cosa sei Una mucca sei io Uè amico Scusa No Ci sono Eh io c'ho qua la tank Merda Qua sarà un bel problema Eh ne ho visto un altro normale in teoria Cioè un boss normale non lo trovo adesso Tutti i mobsteri strani Tipo Cos'è qualcosa che si muove Un uccellino Un uccellino Ciao Ho un pig Eccolo qua Forse così Non funziona Non funziona ragazzi Niente Non lo so Se sapete come si fa Magari me lo dite Qui c'è un altro tizio bello Ciao amico Oddio Oh merda Ok Non sono difficili da battere Sicuramente Tipo un arma in diamante Ci riesce Però penso che ci siano Delle dimensioni magari Un po' più difficili Tipo il nether Probabilmente Il fatto che adesso Sono tipo pieno di mob E Questa è la più grande Preoccupazione di sempre Oggi devo Quel creeper da lontano Non ho mai usato Un arco in vita mia In effetti Quindi è tipo Difficile uccidere Un creeper di mana Ok Tipo l'arco Lo sto imparando a usare In queste versioni di Minecraft Quindi GG ragazzi Sto imparando pian piano Anche a fare le cose vanilla Yeah Perché mi spawnano in casa Adesso Aia Stronzo Merda Questa è quella cosa Che mi ha droppato Quella cosa che mi ha dato Tipo Sì Oddio Bella Che poi potrei usare anche questo In teoria Per fare un po' di danno Meno ho ucciso Meno livello qualcosa Saltarello Poveretto Non ha nulla È livellato un po' Sì Dovrò fare un po' di livelli Dai E dai Quanto ci vuole Quanto ci vuole Si sta avvicinando Si sta avvicinando Si sta avvicinando Fammi la magia Fammi la magia Ho un problema logistico Fa la magia Fa la magia Fa la magia Ok bravo Lasciamo stare Va Facciamo la mano Ok Ma il problema è la magia Tipo Non lo so perché Ci vuole un sacco Ricuperare la magia Ragazzi Non lo so Forse deve farmi qualcosa Di buono Ok Allora ragazzi Perché spesso di tutto Nel frattempo Penso che Probabilmente andremo a esplorare Nel prossimo episodio Ophore Boh Devo fare Sì Devo fare il coso di riparare Prima è vero Avevo dato Quindi Sì magari riparo un po' di roba Prima Nel frattempo Lascerò un po' di roba qui Abbiamo droppato un paio di altre cosette Giusto a muzzo Perfetto Quindi Adesso è una testa di tutto Ci vediamo nel prossimo episodio E ricordate Se volete altri episodi di AdventureCuff Mettete il pollice su Così io so proprio che a voi piace Quindi Ciao ciao ragazzi Ehi tu Sì Dico proprio te Sei nuovo da queste parti Sì Allora mi presento Io sono Lisse E questo è il mio canale Qui potete trovare video di Minecraft Ma non solo Il canale è anche pieno di video Il gameplay Quindi Che aspetti Io non so farlo più da vicino Persone o animali o bambini Non sono stati sfruttati per la realizzazione Di questo video